Michael Adeboale e Michael Adebolaio sono colpevoli di omicidio. Un tribunale di Londra ha condannato i due cittadini britannici di origine nigeriana convertiti all'Islam che lo scorso maggio hanno ucciso a colpi di macete il soldato Lee Rigby. Si attende adesso la sentenza per stabilire la pena che si prevede possa essere il carcere a vita.